Se comprate un quotidiano a Pomarance, capitale della geotermia italiana, pensate ai soffioni di Larderello, una frazione del piccolo comune toscano, l'edicolante vi regala una mascherina. Lo stesso accade se comprate un libro nella libreria del paese. L'idea è venuta la sindaca Ilaria Bacci, avvocato, che dal 26 maggio di un anno fa guida il governo di questo paesino di 5.600 abitanti, che vive soprattutto di turismo e soffioni. Siamo a Pomarance, il primo comune geotermico d'Italia, dal quale è partita questa iniziativa, che mi ha lasciato, devo dire, abbastanza sorpresa del clamore che ha suscitato. È un'iniziativa a sostegno della cultura, dell'informazione, dell'editoria. Abbiamo pensato di donare una mascherina a tutti coloro che nelle nostre edicole e librerie vanno ad acquistare un quotidiano o un libro. E allora ecco che le quattro edicole, due del paese, due delle frazioni e la libreria, si sono visti arrivare i pacchi con complessive 610 mascherine per i lettori. Passerà per il Covid il rilancio della lettura? Passerà per il Covid il rilancio della lettura? Passerà per il Covid il Rilancio. Grazie.